Un tizio viene fermato per strada da due carabinieri i quali lo perquisiscono e gli trovano in tasca un grosso quantitativo di erba, quindi il maresciallo gli fa Ah abbiamo l'erba, sei uno spacciatore, dai che ti arrestiamo subito E questo maresciallo lei non ci potrà mai credere ma io sono vittima di un incantesimo malefico Io non vorrei né usarla l'erba né spacciarla ma ogni volta che la butto nel water e tiro l'acqua mi ricompare in tasca E il maresciallo ci prende pure in giro, andiamo in caserma, dai ci dia prova di questo incantesimo malefico Insomma lo portano in caserma e il maresciallo gli dice dai su butti l'erba nel water e tiri l'acqua, vediamo se gli ricompare in tasca Insomma questo butta l'erba nel water, tira l'acqua e il maresciallo gli fa dai su vediamo nelle tasche se è ricomparsa l'erba E questo? Erba? Ma che erba maresciallo? Ma quale erba?